La storia dei salumi marchigiani nasce nella tradizione locale. Territorio, microclima e competenza tramandata dai maestri norcini hanno reso riconoscibili non solo a livello locale prodotti di norcineria marchigiana quali ciauscolo, salame di fabriano, coppa marchigiana, lardo del monte feltro e prosciutto di carpegna dop. Le tecniche di lavorazione delle carni suine sono caratterizzate da specializzazione e artigianalità in cui la tecnologia di trasformazione coniuga tradizione ed innovazione per garantire insaccati eccellenti. Attraverso questo percorso formativo di 300 ore finanziato dalla Regione Marche attraverso il Fondo Sociale Europeo si acquisiranno le conoscenze relative alla filiera della carne e ai diversi prodotti della norcineria e le competenze per gestire le diverse fasi del processo di lavorazione delle carni dalla macellazione alla composizione degli impasti per insaccati alla stagionatura sulla base di ricette disciplinari e di vendita del prodotto finito. La società agricola Nuno Ciro nasce oltre 40 anni fa nel territorio, cioè nella provincia di Peso Urbino che si contraddistingue per l'allevamento di suini e bovini da carne. Una delle ultime acquisizioni dell'azienda è stata la stalla acquisita nel 2013 a Monte Carlo in Foglia dove vengono allevate i bovini da latte. La particolarità dei suini è il non utilizzo di conservanti. L'attività principale infatti si svolge trasformando questo prodotto senza l'utilizzo di conservanti. Semplicemente carne suina, sale e pepe. I prodotti commercializzati sono salumi, salsicce, prosciutti, curatelli, quindi tutto quello che si può fornire da quello che è il suino. Grazie a questo progetto formativo si dà la possibilità ai giovani di potersi inserire nel mondo del lavoro. Queste figure vengono ricercate sempre di più nel territorio. In questo progetto si dà la possibilità di poter trasmettere quello che vuole sapere, quello che è l'idea e la passione per questa attività. L'obiettivo è creare una figura specializzata che recuperi un antico mestiere, in grado non solo di lavorare il prodotto e tramandare così le tecniche tipiche della norcineria, ma anche di valorizzarne le caratteristiche di unicità e il collegamento con il territorio, per vendere i prodotti tipici della nostra regione e dare nuovo slancio al sistema produttivo e distributivo. Grazie a tutti!